Colin Voss, traduttore d'eccezione Davide Ciprin, partita tra poche ore contro il Rubo, importante, com'è lo stato d'animo della squadra? Siamo bene, ci stiamo bene, ci stiamo bene. Ci siamo bene, ci sentiamo bene, veniamo da 4-5 partite fatte bene, abbiamo giocato bene, a parte un po' l'infortunio di Mike in settimana, però dovrebbe recuperare per sabato, per domani, quindi ci aspettiamo di fare una bella partita. Fino adesso un torneo particolarmente positivo e finora già avere il quarto posto in classifica è sicuramente un buon vantaggio? Sì, credo che possiamo continuare ad andare in classifica, credo che siamo uno dei migliori team della Liga e credo che possiamo continuare ad andare in classifica in classifica. ha detto che possiamo fare ancora meglio, quindi anche avanzare a qualche altra posizione e concludere il campionato nel migliore dei modi, perché siamo una delle squadre più forti di questo campionato. grazie 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 grazie